Ciao ragazza, ciao a tutti e a tutti, è il nuovo video che vi faccio anche stasera perché c'ho voglia di, ovviamente, c'ho voglia di struccarmi, lavarmi i denti come questo e poi struccarmi le sopracciglia e lavarmi i denti come qui, quindi sperando che questo video vi piaccia. Innanzitutto utilizzo questo scorso mio qui, questo, questo qua, si vede, si. Sì, è un po' più difficile della Senso Dain e i lavori denti, ovviamente, quanto più mi ritrucco un calabero, non credo, sono anche distrutto e basta, vediamo un po' adesso cosa combino, il resto andrò, come al solito, a tagliarlo, vediamo cosa riesco a tagliare, a voi non devi parlare, però c'è troppo troppo, pronti, dai. Allora, vi ho messo con il tuo io qui perché l'altro l'ho finito, ovvero questo qua l'ho finito quasi, questo, e sto andando a iniziare questo, della Tantum Verde SS Placca, anti-placca, 4,99 euro, aperta, e mi sta piacendo vero tanto. Vado con questo che... Adesso mi devo striccare le sopracciglia, perché così non posso stare, devo striccare le sopracciglia con questa qua, della micellaria, mi è stimati, stimati, atti, non ti ho scattato male, va bene? ... 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 quindi preferisco evitare ovviamente vedete si asciuga il numero secondo come diceva Makeup Idea che non mi ricordo il suo nome ricordamelo qua sotto nella sezione dei commenti se ti ricordi se no scusate se mi puoi dire il tuo vero nome perché Makeup Idea non mi ricordo come ti chiami il tuo nome reale vabbè niente vabbè nulla questo si è completamente assorbito la mia pelle l'avevo bevuto e adesso vi saluto mi rimetto gli occhialetti perché sennò non vedo una cippa lippa e niente ci si vede al prossimo video ah ricordatevi di subito su tutti gli altri social su Instagram su TikTok e su appunto Facebook e ovviamente se vi va iscrivetevi al mio canale YouTube ci vediamo al prossimo video ciao ciao